Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Graduale attenuazione del caldo con l'arrivo del weekend. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 22 giugno. Tempo stabile al mattino su tutta la penisola con cieli sereni o poco nuolosi. Al pomeriggio poche variazioni salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori alpini e in movimento verso le pianure di nord-ovest. In serate e nottata tempo instabile al nord con piogge e temporali diffusi anche di forte intensità. Ampi spazi di sereno al centro-sud. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app meteo. Un saluto da parte del centro meteo italiano.